Si parte! Andiamo Milan! Andiamo! Tocca a noi ora! Tocca a noi ora! Andiamo! Sto sentendo un pochino anch'io sta partita La sto un po' sentendo, la sto un po' accusando, ma mi sa che sarà così da qui alle prossime 8 Dai Tio, dai Tio La tiene! Sì! E lì! Ma che cazzo hai fatto Giroud? Ma che cazzo hai fatto, Oliviero? Non ci voglio credere! Non ci voglio credere, Oliviero! Ma porca di quella puttana! Non ci sto credendo! Marda, guarda! No! No, no! Ma non è mai vero! Ma ditemi che sto sognando! Ma ditemi che sto sognando! Bravo Pier! Bravo Calulu! Bravo Pier! Mamma mia Pier Calulu! Pier Calulu! Pier Calu! T'è forte! Bella per Franco! Vai Franchino! Palu! Ma non ci credo! No! Non è vero! Non è vero! Ma non oggi la sfiga! L'abbiamo avuto abbastanza! Non oggi la sfiga! Non oggi! Non oggi! Col mangiato di Ciro e poi il suo palo! Era gol! Dai che è stagliato! Dai! Dai Tio! Dai! Sì! Che cazzo fai, Brahim? Che cazzo hai combinato? No! No! Non è vero! Non è vero, Brahim! Non è vero, Brahim! Non è vero! Si può dire che abbiamo fatto tre gol già? Giroud e Brani sono mandati a comportare bene il palo di Cassi. 13 minuti. Cazzo. Bravo Ismael. Ma che c'è spazio? Dai. Rafa. Messia sei un pollo. Messia. Dio santo. Oddio. Oddio. Messia non ti posso più vedere. Messia non ti posso più vedere. Sbaglia ogni scelta. Sbaglia ogni scelta Cristo. Sbaglia ogni scelta. Ma dai. Ma dai. Ce l'ha la fa in mezzo. Oppure Giroud un secondo. Questo tira. Ma che cazzo tiri. Ma dai raga. Ma dai. Ma dai. Ma dai. Ma dai. Ma fatemi sta zitto per favore. Tio. No Benasser. Oh ragazzi. Ragazzi mi state facendo girare i coglioni. Ragazzi. Mi state facendo girare i coglioni. È una partita dove stiamo avendo occasioni su occasioni. Dobbiamo svegliarci. Dobbiamo svegliarci. Bravo Benasser. Ma che giocatore. Dai. 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 Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai. Sì Tio. Sì Tio. Vai cavallo. Ma no cavallo. No cavallo. Tira meglio cavallo. Che primo tempo abbiamo giocato. Abbiamo dominato. Ma manca il gol ragazzi. Manca il gol. Dai raga. Buttiamo dentro sto pallone. Manca un tempo. Dai. Dai. Il secondo tempo. Fatto bene. Vincere vinciamo sta partita. Per favore. Dai. Sì. Calulu. Mamma mia. Pier Calulu. Mamma mia. Pier Calulu. Pier Calulu. Pier Calu. Che forte. Che forte. Te. Ibrahim. Mi inventa Ibrahim. Vai Messias. Dai Ibrahim. Sicilu. Pier Calu. Pena Zio. Ismael. 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 Impazzisco. Impazzisco. Ti amo Ismael. E ciò ci ha pronto il colo. Il colo era per te. Il colo era per te. Lo facciamo immediatamente. Algerino. Lui è. Se c'è un buco. Lui c'è. Non è Rocco. Lui è. Ismael. Benazè. Algerino. Lui è. Se c'è un buco. Lui c'è. Non è Rocco. Lui è. Ismael. Benazè. Ti amo. Arriva il gol di Benazè. Arriva anche il nuovo coro. Arriva anche il nuovo coro. Arriva anche il nuovo coro. Sono la toronzo nero. Ti ha mandato i dolori. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ma è ovunque. È ovunque Ismael. È ovunque Ismael. È ovunque Ismael. È ovunque Ismael. Mamma mia. Mi sta venendo un infarto. No. Mamma Calulu. Pier Calulu. Pier Calulu. Pier Calulu. Che forte. Bravo Rafa. Dai. Dai Rafa. Vola Rafa. Vola Rafa. Vola Rafa. Come serfa. Mamma mia. Ma raga. Ma Benazè che partita sta facendo? Bravo Giroud. Ma che azuccina. Dai. Dai Salamella. Larga di là. L'ha toccata. L'ha toccata. A me sta roba che giochiamo con l'Arabic più vicino a Giroud. Ma a centrocampo siamo comunque a tre e non a quattro. Perché Calulu ci sta più in mezzo. Io non la capisco. Perché c'è un sacco di spazio largo di là. Io non lo so perché fa così. Giuro non lo capisco sta cosa qua. Sarò io stupido. Sì. Dai. Oh raga dai. Per favore sto tu a zero. Dai. Dai Rafa. C'è Salamella di là. Dai Ante ti prego. Sì. Davide. Davide. Ma Davide. Davide. Ma Davide. Davide. Ma perché? Ma perché Davide? Ma perché? Ma non è vero. Ma che hai fatto? Ma Davide. No. No. Davide. Ti sei po' vedè. Ti sei po' vedè Davide. Ti sei po' vedè. Davide. Ti sei po' vedè Davide. Ti sei po' vedè. Ti sei po' vedè. Ti sei po' vedè. Ti sei po' vedè. Non ci credo. Ma porca. No raga. Ma cosa sta succedendo in questa parola. Possiamo essere 80-0. Dovremmo essere. 80-0 dovremmo essere. Io non ci voglio credere. Mamma mia. Non ci voglio credere. Guarda. 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 Guarda che buco di là. Ma ragazzi. Perché stiamo giocando così sbilanciati sulla destra? Io non sto capendo il perché. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Ti ringrazio. Questo è il karma. Questo è il karma per tutte le sfortune che abbiamo avuto. Grazie Gesù Cristo. E per tutte le sfortune che abbiamo avuto in questa cazzo di partita. Mamma mia. Mamma mia. Sì ma io non sto capendo perché Pioli fa queste scelte qua. Io queste scelte di Pioli non le sto capendo. Io non sto capendo perché Reppi c'è la seconda punta. Stai largo aiuta. Non sto capendo il perché Pioli fa così. Perché Pioli? Anche contro la cazzo di San Siro l'altra scorsa. Contro che cazzo abbiamo giocato? Contro l'Empoli. Abbiamo fatto sta cagata. Io non sto capendo il perché. Guarda che buchi. Guarda. Dio santo. Deve imprecare. Dai Zlatan. Senza farlo. Senza farlo che sbaglia. Non sto capendo perché facciamo queste cose. Vi giuro. Non sto capendo. Non sto capendo il perché. Non ha senso. Sì. Bello ser. Bello ser, ma chers. Non ci credo. Quanti gol ci stiamo mangiando. Quanti gol ci stiamo mangiando. Quanti gol ci stiamo mangiando. È una roba imbarazzante. Una roba imbarazzante. Quanti gol ci stiamo mangiando. Quanti gol ci stiamo mangiando. Mamma mia. No. Non aveva senso perdere sta palla. Non aveva senso perdere sto pallone. Non aveva senso perdere sto pallone. No. Non aveva senso. Non aveva senso. Teo. Teo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Teo. È felice. Sì. Che cazzo di vittoria meritata. Meritata. Solo una 0 meritata. Un piccolo brivido. Ma una vittoria meritata. E andiamo Milan. E andiamo Milan. Ti amo. Ti amo Milan. Unico amore sei. Non ti ho tradito mai. Ti amo. Ti amo.